Siamo al ristorante Pavarotti di Milano con il suo chef Federico Calvani, a cui chiedo un commento, mi ha già raccontato tutto del menù, un commento su cosa significa per lui lavorare in questo ristorante. Lavorare in questo ristorante per me significa rappresentare le mineralità del mondo, avendoci un ristorante all'interno della galleria dove si trovano tantissime persone ogni giorno da qualsiasi parte del mondo.